Buongiorno a tutti, qui Arduino Schianato da Yardforex.com e anche questo video parlerò di euro-dollaro e cosa sto facendo, qual è il tipo di situazioni che sto vedendo e quale magari target di breve termine potrebbe essere quello di euro-dollaro. Se siete in questo canale sicuramente il forex, diciamo il mercato delle valute è qualcosa che vi piace, magari lo tradate pure, quindi vi chiedo subito di lasciare un bel like alla fine del video e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e adesso partiamo con il video. Molto bene, eravamo rimasti la settimana scorsa che avevo fatto quel trade a 1,2070, in realtà era ancora un ordine pendente in quel caso, con il mercato, con l'euro-dollaro che poi è salito molto, in questa settimana ho fatto alcuni cambiamenti ma non mi soffermerò troppo su quello, ho alcune posizioni long su questo mercato nuovamente ancora perché l'obiettivo che la settimana scorsa discutevo qui con voi, che diciamo che era l'obiettivo dei massimi precedenti 1,2240 all'incirca è ancora assolutamente intoccato e questa cosa per come è tutta la dinamica dei prezzi dell'euro-dollaro ma non solo anche quello che riguarda le principali valute contro l'euro americano ma anche l'oro ma anche possiamo dire gli indici in questo momento diciamo che per quanto è l'impostazione del mercato al di là di tutte le voci di tutto quello che può essere questa questione tra tapering no, tapering sì, inflazione alta, inflazione più alta delle aspettative eccetera eccetera quello che conta è che il mercato sta comprendo euro-dollaro in questo momento ed è abbastanza chiaro dal grafico giornaliero per esempio ma adesso magari facciamo un salto anche sul grafico settimanale tutto è molto chiaro nella big picture quindi nelle ultime sicuramente almeno nelle ultime settimane. Come notiamo nel breve già l'altra volta io avevo fatto appunto questo acquisto il mercato adesso è ritornato ha fatto uno swing al ribasso e proprio ieri ha creato un ulteriore price action long che ha confermato ulteriormente tant'è che poi ho incrementato una posizione long che già avevo e che alla rottura di questa questa è una classica indecision bar una delle barre che mi danno da trigger per degli acquisti o delle vendite ovviamente sempre alla fine di uno studio della struttura di quel mercato della dell'analisi tra i vari mercati tra quella che è la possibile la possibile forza o meno per in questo caso del dollaro questo diventa diciamo il finale la ciliegina finale il trigger finale che è stato proprio creato ieri quindi io ho ancora incrementato il mio posizionamento e in questo caso operando comunque nel breve termine su euro-dollaro cercherò di andare verso la zona come l'altra volta che vi dicevo 1.22.30 1.22.30 lo scrivo qui che è più o meno eccola qua la zona che si trova su questa linea è un pochino più basso questo è 22.45 quindi leggermente più basso mi tengo un pochino qualche punto anche se in effetti potremmo anche andare più basso ma al momento guardate l'impostazione delle ultime settimane dell'euro-dollaro guardate come è andato a sparare al rialzo con questo aumento di volatilità è andato a riprendere a risucchiare diciamo quei massimi precedenti molto importanti che avevamo comunque notato e che avevamo segnato livelli di offerta swing nuovo trigger e una close di settimana così importante io adesso sono comunque le 16.30 all'incirca di venerdì questo video uscirà domani quindi sabato alle 14.30 sul canale però sono abbastanza dell'idea che l'euro-dollaro chiuderà abbastanza alto può anche essere più alto dei livelli attuali quindi io mi aspetto anche una chiusura verso l'1.21.60 per esempio dell'euro ma comunque una chiusura importante una chiusura bella bullish e questo diciamo confermerebbe ancora di più che per la prossima settimana l'obiettivo 1.22.30 è abbastanza raggiungibile guardiamo quindi la struttura sul settimanale vediamo un po' che cosa sta avvenendo guardate un po' dopo questo grandissimo trend rialzista notiamo che il mercato praticamente aveva bucato molto bene questa settimana questa qui verde dopo aver tentato di rompere il rialzo non ce l'ha fatta falsa rottura doppio minimo higher in questo caso boom ritracciato perfettamente sull'area dinamica sull'area statica non solo delle chiusure ma anche qui su questa zona e se dovesse chiudere così o un po' più alto come mi aspetto diventerebbe diciamo ancora di più confermativo del mercato che può tenere questa zona e che facilmente diciamo potrebbe vedere questi 1.22.30 quindi come vedete il mio posizionamento è sempre basato su quella che è l'analisi dei prezzi del mercato senza farmi troppo diciamo influenzare da quelle che possono essere tutte queste voci tutte queste articoli della stampa dei giornalisti che sono più loro che parlano di tapering piuttosto che in realtà la federal reserve che al momento è assolutamente no tapering in questo momento e che aveva detto che la fiammata di inflazione al momento risulterebbe solo temporanea almeno per quanto per quello che è il loro pensiero e quindi al momento in effetti il prezzo è il mercato sconta questa cosa non ha aspettative di una situazione diversa di politica monetaria quindi rifacciamoci a quello che dice il prezzo rifacciamoci a quello che sta dicendo l'euro dollaro dove stanno andando gli acquisti gli acquisti stanno andando sul dollaro o stanno andando sull'euro in questo momento nel breve termine è più facile che l'euro la prossima settimana vada a ripescare l'1.22.30 o che si ritorni sotto 1.20 io per com'è la struttura dei prezzi e anche come ho investito credo molto di più in un possibile movimento al rialzo che può andare a riprendere ovviamente l'1.22.30 per tutta quella che è la dinamica dei prezzi non dimentichiamo che abbiamo un mensile di questo tipo che aveva fatto una bella base qui e che adesso rotto può tranquillamente andare a ritestare quella zona dell'1.22.30 in realtà se lo guardiamo bene potrebbe anche andare molto più su e andare addirittura a ritestare anche l'1.24.60 1.24.50 cioè me lo aspetto? È possibile è ovvio che nell'ottica di trading magari lo faccio anche il trade ma al momento il primo livello di presa profitto e ritorno su un grafico a barre giornaliere è ovviamente questo 1.22.30 quindi nel momento in cui mi dovesse fare questo magari in altri 2-3 giorni qui magari si può incassare perché poi sapete com'è no magari si ritorna giù e poi magari si può ricomprare e poi magari qui c'è un altro livello il bello del forex è anche questo e poi magari capitalizziamo questo movimento e poi magari andiamo diretti là quindi non è sempre verticale il movimento poi magari chissà se lo sarà vedremo al momento diciamo che il target per l'euro dollaro rimane quello lì e quindi è un po' questo quello che io mi aspetto va bene? allora detto questo direi che abbiamo detto tutto io diciamo che non ho più nient'altro da dire vi ovviamente ricordo di mettere un bel mi piace al video se vi è piaciuto di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video ciao a tutti un saluto ciao a tutti ciao a tutti